Alla fine il mio amico rimane svelto. Eh già, con quello che costa. Svelto, vale di più di quel che costa. Guarda, per tutto quest'unto ne basta un cucchiaio. Ah però, perché svelto è concentrato giusto. Così lascia morbide le mani. Ma anche liquida via luto. Ancora indecisa? No no, decisissima. Svelto. E oggi c'è anche il nuovo svelto per lavastoviglie. Tappo di sicurezza, polvere sempre asciutta e formula antigrasse. Svelto lavastoviglie. Fa meraviglia. Fa meraviglia.